Onorevole Stefano Allasia, nel decreto del fare ci sono delle novità anche per quanto riguarda il Piemonte, in particolare per il tema infrastrutture e trasporti. Che cosa si tratta? L'approvazione degli emendamenti in commissione sono stati presi in considerazione dal governo e oramai legge sul decreto del fare e danno l'infa vitale all'economia del Piemonte per rigettarli sull'industria, sulle attività produttive e sul lavoro. E dall'altra parte opere fondamentali come il passante ferroviario di Torino, il completamento da Torino-Ceres e il collegamento ferroviario di Malpensa-Novara sono possibilità che il Piemonte ha preso e i parlamentari piemontesi di tutti gli schieramenti anche della maggioranza hanno preso con il beneplacito anche della Lega. Perciò possiamo dire con grande soddisfazione che abbiamo portato a casa dei progetti concreti. A proposito di questo tema, lei chiede che venga istituita a Torino l'autority dei trasporti. Perché? Sì, non a caso. Ha tutte le caratteristiche tecniche e economiche e anche culturali perché l'autority dei trasporti sia a Torino. Non a caso la grande discussione sulla TAV si svolge nel territorio sabaudo in Piemonte. Perciò noi rivendichiamo la volontà nostra e la possibilità che l'autority dei trasporti come altre autority non siano esclusivamente a Roma ma distribuite sul territorio nazionale. Non ci hanno concesso altre autority, questa volta c'è la possibilità effettivamente che possiamo portare a casa un tassello fondamentale. Stiamo aspettando ancora la risposta del governo che mi sembra abbastanza, come sempre con questo governo letta, un ni.